PARK TOOL ragazzi chiedo scusa a coloro che magari mi vedono oggi per l'unima volta e dicono ma chi è sto matto so così naturale allora PARK TOOL PARK TOOL è come dire nel mondo delle biciclette, delle mountain bike, delle bike, di quello che ci separa a noi è sicuramente sinonimo di meccanica, di professionalità, di sicurezza, di livello e devo dire sì, proprio sì, hanno un altro livello altri leva gomma rigidi, più lunghi, resistenti perché poi ho quelli d'acciaio che sono ottimi ma si sono un po' rovinati davanti, hanno perso la cromatura e se non sto proprio attento tendono a spaccare la camera d'aria, a bucare la camera d'aria perciò mi sono rimesso in cerca di un leva gomme professionale e ragazzi senza ombra di dubbio sono un qualcosa di veramente eccelso in tutto perché? perché ve lo faccio vedere per bene nella confezione nella confezione ce ne abbiamo due praticamente è acciaio, il leva gomme è tutto in acciaio la puntina del leva gomme è vedete, non è coperta ma poi ha una plastica particolare che ricopre tutto l'acciaio per non rovinare il cerchio praticamente poi a livello tecnico ha due inserti qua non so se la camera l'inquadra ha due inserti dove serve per appoggiare praticamente sul cerchio il leva gomme in modo che non scivola e non rischia di andare a spaccare all'interno il cerchio o di andare a bucare la camera d'aria questa plastica che ricopre l'acciaio del leva gomme non è una plastica aclastica è una plastica strana ovviamente è acciaio però la plastica che riveste il tutto è una plastica che sembra ferro ma in realtà invece è una plastica rigida e che ve devo dire vi consiglio? sì non ci regalano costano 22 euro se tu cosetti 22 euro però sicuramente se tu andai a comprare un leva gomme o un caccia gomme di plastica e pagarlo 10 15 7 12 8 9 e poi buttarlo al primo cerchietto rigido di una gomma ti ce gira allora è meglio improntare subito un discorso a livello professionale 21 euro e 70 centesimi ma prende una cosa che è fissa e che non dà problemi e che soprattutto funziona ma io purtroppo ieri mi sono arrivati ieri questi ho fatto la prova su una mia gomma ragazzi c'è poco da di c'è poco da fa ieri sera mi sono tolto la gamba la gomma mia in un minuto l'ho fatta uscire e in un minuto e mezzo lo rimandava dentro senza il minimo sforzo e soprattutto senza il minimo rischio di danneggiare il cerchio e senza diventare matto sono dei leva gomme che non c'è paragone con l'altro la qualità se avete subito da appena li toccate insomma c'è c'è niente da fare Park Tool è sinonimo di di professionalità e di meccanica eccoli qua lo devo dire sì è vero è vero io vi lascio il link in descrizione se vi volete andare a prendere sicuramente vi garantisco che sarà l'ultimo leva gomme che prendete perché tutto il resto è noia io vi saluto vi aspetto sul canale sto aspettando che mi arriva il grasso specifico per per i mozzi per andare poi a fare il lavoro di manutenzione sul mozzo se il video non ti è piaciuto lascia il like se il video non ti è piaciuto lascia il dislike se ti so simpatico vi è sul canale se non fate la trove scherzo bella ragazzoni a presto al prossimo video presto 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 piaciuto